buongiorno sono michele leone e ti do il benvenuto sul mio canale oggi parleremo del culto del caprone tra realtà e fantasia prima di questo permettimi di dirti un paio di cose tanto per iniziare il 23 aprile insieme a lexi con simbolorum terremo un evento riservato a un numero limitato di persone dove leggeremo e commenteremo il de hominis dignitate di pico della mirandola per avere maggiori informazioni trovi il link in descrizione siamo pronti per partire come sempre dopo la sigla eccoci qui di nuovo buongiorno riprendiamo la lettura del nostro testo giordano berti storia della stregoneria siamo a pagina 67 o giù di lì ma prima come puoi vedere è ritornato l'ermes ridente nelle nostre trasmissioni dell'ermes ridente poi ti parlerò un'altra volta e della sua genesi ma veniamo alla puntata di oggi perché è una puntata densa dove non penso riusciremo a esprimere tutto ciò che dobbiamo esprimere all'epoca di giovanni ventiduesimo avvenne una recrudiscenza dell'antifeminismo anch'esso destinato a tragiche conseguenze per la cultura giudaico cristiana la donna è fonte di ogni male avendo per prima assaggiato il frutto proibito offertole da satana nell'eden e avendo convinto adamo a città a cibarsene questa è una storia nota quella di eva che or che offre il pomo ad adamo ma vi è una recrudiscenza dell'antifeminismo per vari motivi anche per motivazioni economiche perché comunque le donne che che se ne pensi avevano anche del potere ma torniamo agli aspetti propri della stregoneria proprio giovanni ventiduesimo commissionò al francescano alvaro pelaio un'opera che riassumeva gli argomenti teologici contro le donne e questo fu redatto nel 1330 tra le accuse più dure rivolte alle donne figuravano il fatto di trascinare gli uomini negli abissi della sensualità e di accoppiarsi con le bestie inoltre certe donne sono empie indovine gettano il malocchio adoperano incantesimi e malefici provocano la sterilità con erbe composizioni magiche praticano l'arte di zabulon cioè impediscono la procurazione un'accusa quest'ultima che ricorda le pratiche diffuse dei catari i quali preferivano spesso abortire per evitare il perpetuarsi del male nel mondo terreno allora abbiamo un mondo maschilista un mondo che vede nella donna la fonte di ogni male che è un mondo che va in contrasto poi con il mondo del dolce stil nuovo pensiamo alla beatrice di dante pensiamo a petrarca pensiamo a tutte le canzoni d'amore sin anche c'è stato è stato scritto un bestiario d'amore sì perché il periodo il medioevo è il periodo in cui i bestiari la fanno se ridire da padroni e quindi cosa accade questa donna che era stata idealizzata come spesso succede dall'alto poi viene portata in basso le motivazioni sono varie una forma di attacco alle donne per vari e vari motivi che è una cosa deprecabile ma è una cosa deprecabile sia per le donne ma in generale è deprecabile accusare le persone noi stiamo parlando di stregoneria stiamo parlando di eventi passati eventi avvenuti ottocento mille anni fa eppure i giornali i media ignorano che ci sono delle parti del mondo dove ancora oggi essere accusate di stregoneria comporta la lapidazione comporta essere bruciate vive ci sono delle nazioni che hanno dei reparti della polizia contro le streghe e questa non è fantasia non è un film dell'orrore allora noi che siamo impegnati in tanti temi più o meno sociali spesso ci dimentichiamo di queste piccole battaglie che andrebbero fatte piccole non perché non sono significative piccole perché ognuno di noi può fare una piccola cosa come io oggi ti sto raccontando che esistono questi problemi possiamo bendarci gli occhi oppure possiamo dire che esistono e provare a fare qualcosa io provo a fare qualcosa facendo divulgazione tu puoi fare il tuo dicendo ma forse non è così o pensiamo ai bambini in africa accusati di stregoneria pensiamo agli albini quindi è vero è grave la discriminazione contro le donne assai più grave in generale il discriminare il diverso ma il diverso ci fa sempre paura questo è un tema che dovremmo affrontare in n puntate perché il diverso ci fa paura perché ci fa uscire dalle nostre piccole certezze alla fine siamo meschini ma quali erano le accuse torniamo al testo gli abissi della sensualità certo perché gli uomini non sono sensuali allora io che sto qui e voglio essere nel giusto accuso te di portarmi o povera anima candida sono un puttino caduto dal cielo per il troppo peso ci sei tu femmina lasciva che mi porti prima accusa poi l'accoppiarsi con le bestie vedremo che un light motive il malocchio ma cos'è il malocchio del malocchio vi parlerò in un corso ad hoc o in una serie di puntate perché il malocchio e la fascinazione esistono da sempre noi pensiamo che siano delle forme e in alcuni casi lo sono anche di subcultura o di arretratezza ci sono delle forme che sono esistite da sempre che andrebbero studiate nella giusta forma inquadrate nella giusta misura il potere dell'occhio e della fascinazione il creare i vincoli ma noi spesso ci facciamo vincolare perché se non crediamo in qualcosa non permettiamo questo in generale a qualcuno di esercitare un potere su di noi il potere non esiste in linea di massima poi ci sarebbero tutta una serie di sottocategorie di casi adoperano incantesimi e malefici generico provocano la sterilità questo è un tema importantissimo che abbiamo visto i catari la facevano volontariamente per non mettere altre persone al mondo ma i figli che erano un bene prezioso perché andavano a lavorare aiutavano la famiglia e aiutavano il sostentamento della famiglia era un bene preziosissimo quindi la sterilità era davvero una dannazione all'esatto opposto nella nostra società che una società che ha deciso di diventare sterile vedremo anche come molte delle leggende dei miti delle storie sulle streghe sono stati inventati tra 7 e 800 molti autori hanno aperto le dighe della loro fantasia inventando le peggiori cose a difesa o in accusa per difendere la chiesa o per difendere le streghe ma ci hanno messo del loro ognuno del suo e noi dovremmo andare a vedere queste cose anzi tolgo il condizionale noi dobbiamo preso vogliamo avere una coscienza storica dobbiamo separare il grano dalla pula dobbiamo sapere cosa è vero e cosa non è vero poi il mondo fantastico l'immaginario è una cosa meravigliosa è una cosa stupenda è un libro che ti consiglio mi viene in mente in questo momento una diretta un po particolare è le strutture antropologiche dell'immaginario di durand un testo capitale ma l'immaginario è una cosa lo studio dell'immaginario è una cosa la storia la verità storica di alcuni avvenimenti è un altro e noi dobbiamo separarle entrambe affascinanti ma è importante tenerle separate negli anni immediatamente seguenti la pubblicazione della bolla super ilius specula ne abbiamo parlato la scorsa puntata si scatenò la caccia alle streghe della francia meridionale alcuni storici sostengono che nell'arco di un secolo bruciarono sul rogo oltre 600 persone tra maghi e streghe e anche qui guardate la differenza il maschio mago femmina strega in realtà bisognerebbe parlare di strega e stregoni anche perché il mago e la maga spesso sono diverse figure diverse dalla strega la magia soprattutto la magia naturale viene spesso poco cassata dall'inquisizione ma perché perché ci sono i filosofi che la sostengono la magia naturale diventa una parte pratica della filosofia dell'investigazione della natura poi qualcuno in tempi moderni ha detto no ma l'alchimia e all'origine della chimica l'astrologia e all'origine della astronomia vero ma fino a certo punto sono cose ci occupano di cose diverse le une hanno a che fare anche e soprattutto con lo spirito con l'anima con il problema con quello che vogliamo le altre si occupano di materia di fisicità sono importanti entrambe lo spirito e la materia un giorno magari leggiamo anche qualcosa di mix e di michele psello tuttavia non è facile stabilire l'accusa specifica mossa contro il loro dato che ormai era avvenuta nella mentalità degli inquisitori una saltura tra eresia adorazione del diavolo e pratiche magiche e qui che iniziano i veri problemi e qui che se vogliamo inizia la storia della stregoneria così come ce le immaginiamo noi oggi anche attraverso i film lasciando da parte i documenti in cui tali reati non sono chiaramente distinti tra loro ricordiamo i più famosi processi per la stregoneria avvenuti in francia nel corso del trecento e vedremo poi come questi processi non è detto che siano veri tra il 1320 e il 1350 l'inquisizione di carcassone pronunciò più di 400 sentenze per il reato di magia e oltre 200 di queste comportarono la pena di morte l'inquisizione di tolosa fu ancora più severa le comparvero davanti 600 persone delle quali due terzi furono giustiziate dal braccio secolare perché ricordiamoci le condanne venivano affidati al braccio secolare un lavarsi la coscienza da certi punti di vista da altri un cavillo teologico tali esecuzioni continuarono durante la seconda metà del secolo tra le tante vicende ne spiccano due la prima riguarda ammari de gergel sotto tortura sottolineiamo sotto tortura la donna avrebbe confessato che molti anni prima mentre stava lavando i barbi le apparve un uomo vestito con pelli animali al quale lei si concedete al di là del della storia erotica e il medioevo è pieno di storie erotiche a questo proposito vi consiglio di cercare in rete qualche video di del professor barbero che racconta molto bene questi episodi vestito di pelli ecco questo è un aspetto importante il vestito di pelli ci riporta a degli episodi di feste rurali di feste agrarie di culti della natura si era soliti travestirsi ancora oggi nel carnevale noi troviamo alcuni piccoli frammenti di queste feste quindi vestito di pelli e noi arriveremo al caprone e spesso il caprone non c'entra veramente niente con il diavolo anzi è frutto di un immaginario è frutto anche di una volontà di andare a colpire ciò che era fuori dalla cultura accettata dal modo spesa un po quello che succede oggi se non si è allineato taccio non dico niente l'uomo le sospirò qualcosa nell'orecchio e subito fu trasportata contro la sua volontà a una riunione di uomini e donne sacrileghi contro la sua volontà questo fa parte ci vorrebbe da dire quasi della difesa là c'era un caprone gigantesco che salutò al quale che salutò e al quale si abbandonò il caprone in cambio le mostrò ogni genere di segreti malefici le fece conoscere le piante velenose le insegnò le parole magiche e come bisognava fare sortilegi nelle notti che precedono san giovanni in natale e in quelle del primo venerdì del mese allora fermiamoci un attimo al di là di questo caprone che atti sessuali sui quali eventualmente torneremo abbiamo delle notti topiche san giovanni e in questo caso ci si riferisce a san giovanni d'estate ma i san giovanni sono due quello che ricordano tutti e san giovanni d'estate il solstizio d'estate il 24 di giugno poi abbiamo san giovanni d'inverno ovvero san giovanni evangelista che è al 27 di dicembre quindi la notte di san giovanni e la notte di natale ma perché queste due notti queste due notti sono le due notti solstiziali dove si aprono la piccola e la grande porta andiamo a rileggere porfirio l'altro le delle ninfe per fare un esempio sono delle notti magiche poi la cultura cristiana si è imposta è iniziato a mettere le sue festività ma da sempre quelle due notti sono due notti magiche impara a riconoscere le erbe spesso le streghe erano delle erbarie erano le prime guaritrici dei villaggi si qui si dice nel racconto impara a conoscere erbe benefiche ma le streghe conoscono tutte le erbe è ovvio che se io vado nei boschi raccolgo erbe e funghi conoscerò quelli commestibili per i funghi e quelli velenosi conoscerò le erbe le erbe per preparare infusi tisane quant'altro conoscerò le erbe da bruciare per fare le fumigazioni quindi quasi tutte le erbe vengono condannato si parla solo delle erbe malefiche quelle benefiche non se ne parla ma nello stesso periodo storico abbiamo ad esempio i benedettini abbiamo i grandi momenti dove ci sono le farmacie all'interno dei monasteri dove vengono appunto usate le erbe e non solo le erbe abbiamo i rapporti con l'astrologia ma questo poi è un discorso che se verrà faremo più avanti e ogni genere di segreti malefici ovvio perché se il caprone che dobbiamo identificare col diavolo sono segreti malefici al marì imparò così a cuocere erbe avvelenate sostanze estratte dagli animali sia dei corpi umani seppelliti nei cimiteri per servirse nei suoi incantesimi la donna inoltre si aggirava di notte attorno alle forche patibolari per oggi non lo potrebbero più fare perché non abbiamo grazie al cielo più le forche patibolari a torino c'è un rondo il rondo della forca dove venivano eseguite le esecuzioni per rubare la corda da cui pendevano o impossessarsi dei loro capelli delle unghie o di parti grasse questo importante ma l'autore di questo racconto non conosce forse la cosa più importante che si prendeva dagli impiccati spesso veniva rubata in una tagliata loro più che rubare una mano per fare la famosa mano di gloria c'è un video sul canale di lexi con simbolon sulla mano di gloria oltre al fatto che si vuole che sotto la forca degli impiccati nascesse la mandragora questo perché perché si dice che nell'ultimo respiro quando stava soffocando e la vita lasciava spazio alla non vita la morte l'uomo impiccato avesse una eiaculazione da questa eiaculazione poi veniva generata la mandragora interrogata sulla sua fede religiosa anne marie sostenne che dio è padrone del cielo e satana quello della terra e che i due sono in eterno conflitto qualche volta vince uno qualche volta vince l'altro la donna essendosi pentita dei suoi peccati e riconciliata con la chiesa fu lasciata libera che sospetto ci viene un'altra imputata lo stesso processo katrine derlotte confessò di essere stata scostretta dal suo amante dieci anni prima a fare un patto con il diavolo evocato con un rito magico celebrato a mezzanotte a un incrocio allora a mezzanotte inizia a diventare l'ora magica anche se qui dovremmo aprire una parentesi sulle ore magiche è facile dire mezzanotte in realtà nel mondo della magia la nostra mezzanotte non è affatto la mezzanotte magica perché il giorno magico si divide in 12 ore ore diurne in 12 ore notturne la prima ora del giorno magico è il momento in cui alveggia e da lì poi parte tutto il conto delle ore che possono anche essere diseguali c'è ogni pianeta per ogni ora magica ma questa è un'altra storia l'incrocio l'incrocio è un elemento importante vi ricordate abbiamo incontrato l'incrocio con ecate con la magia greca gli incroci sono importanti i trivi e i quadrivi soprattutto gli all'incroci parentesi che non c'entra con la magia potremmo trovare o avremmo potuto trovare soprattutto in epoca classica un'erma di ermes l'erma di ermes era raffigurata solo con una testa su un quadrato o su un cubo e il fallo le interpretazioni oggi non le daremo però i trivi e i quadrivi sono sempre stati importanti per il sacro per la magia per la religione la donna si era fatta sanguinare il braccio sinistro lasciando scorrere il proprio sangue su un fuoco alimentato da osso umane rubate nel cimitero della parrocchia aveva pronunciato strane parole poco dopo le era apparso il demone berit sotto forma di una fiamma viola e qui siamo nel nei bimu di horror più truci grande fantasia in questa descrizione da allora ogni sabato cadeva in un sonno profondo e andava una riunione in posti vicini e lontani talvolta fino ai pirenei nel primo processo abbiamo visto il viaggio ritorna il viaggio e questo è uno dei temi fondamentali della stregoneria il viaggio verso il sabba poi arriveremo alla scopa l'immagine della strega con la scopa ma le streghe si muovono e non si muovono sempre con la scopa arriveremo al noce di benevento che tanta importanza ha avuto ma potremmo parlare dei benandanti che un altro libro che vi consiglio fondamentale di carlo ginsburg il viaggio quindi si raggiunge perché il viaggio perché è uno spostarsi è un allontanarsi dalla realtà quotidiana questi viaggi spesso avvengono in uno stato onirico in uno stato di alterazione della coscienza potremmo dire qui adorava un caprone e si concedeva a lui come tutti i presenti alla festa abbiamo questo caprone insaziabile si mangiavano cadaveri di bambini appena nati strappati alle loro balie durante la notte si beveva ogni genere di liquori sgradevoli e tutti gli alimenti erano privi di sale a questa cosa dei bambini è importante perché la ritroveremo negli accusi agli ebrei gli accusi gli ebrei hanno subito tutta una serie di accuse del sale non ti dico niente fai una ricerca perché i cibi del sabba o i cibi dei banchetti dedicati a certe entità sono privi di sale catherine messa sotto tortura dopo aver protestato a lungo la sua innocenza dopo aver pronunciato numerosi giuramenti falsi fu giudicata colpevole di tutti i reati di cui era stata sospettata aveva fatto cadere la grandine sui campi ecco un altro aspetto aspetto te ne ho parlato in più di una puntata ma prima o poi ti dedicherò uno speciale di due ore di tempeste a questo far cadere le tempeste tra le altre cose l'ordinamento la legge romana aveva delle chiare condanne delle chiare proibizioni proprio su questo sul rovinare i campi dei vicini perché erano cose ovviamente importanti e fondamentali in una civiltà agricola marcire il grano grazie a una nebbia pestinenziale gelare le vigne aveva provocato malattie mortali e vuoi alle pecore dei suoi vicini aveva causato la morte delle sue zie esponendo a fuoco lento le immagini di cera vestite con qualche loro camicia in modo che la vita di quelle donne disgraziarsi disgraziate si consumasse man mano che le due state fondevano nel bracere qui potremmo arrivare a pratiche stregonesche di altre culture ludu il v2 quant'altro le statuette di cera si aprono dei mondi e dei parallelismi interrogata sulla sua fede religiosa catrini dimostrò di credere alle dottrine dei cadere dei catari ma poi manifestò la sua dedizione alla chiesa cattolica e sottoscrisse un atto di confessione e gli avviura dei suoi errori la corte la lasciò libera occorre avvertire a questo punto che l'intero caso di anne marie e di catrin oggi è considerato assolutamente falso si tratterebbe di un'invenzione ottocentesca costruita ad arte da uno scrittore fantasioso e in seguito riportata come veritera in numero da numerosi storici così la stra la saga delle streghe di tolosa rimbalzata da un libro all'altro senza che nessuno fino a tempi recentissimi andasse a verificare la coerenza dei documenti citati quello che vi ho detto all'inizio della puntata dobbiamo sempre 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 verificare anche gli storici per buona fede per superficialità per malizia prendono delle cantonate delle volte quell'autore è tendibile copia il copia incolla non è un'invenzione moderna che che qualcuno possa dire o pensare quindi noi dobbiamo verificare io ve l'ho letto apposta sapevo che era un falso però anche nei falsi c'è qualcosa di vero quello che a noi interessa è scoprire perché il caprone il collegamento a panna priapo ai ai riti della fertilità ci sono mille e un aspetto da approfondire arriveremo anche ad aradia il vangelo della strega lo leggeremo se sarà il caso qui o in altra sede poi trarremo eventualmente delle conclusioni anzi tra rai delle conclusioni perché ognuno di noi deve una volta che è fornito degli strumenti adeguati deve trarre le sue proprie conclusioni parrebbe quindi falsa pure la notizia che nel 1352 a carcassone fono processate sette persone che avevano adorato un caprone nella speranza di poter andare alla riunione diabolica ma che non vi erano riuscita per mancanza di fede questo è un elemento fondamentale fondamentale della religione della magia la magia bianca gialla verde blu nera pallini chiamatela come volete naturale occulta teorgia eccetera 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 senza la fede non si va da nessuna parte e gli effetti sono presidi questo è un aspetto fondamentale un aspetto chiave e ne parlano gli scrittori di magia i teologi i filosofi chiunque furono condannate a 12 anni di prigione a perpetua sorveglianza da parte dei curati tutti i casi qui citati sono considerati importanti dagli antropologi soprattutto perché evidenzierebbero chiaramente il momento in cui cominciò a emergere la credenza nel culto del caprone che si tramanderà nei secoli sotto forma di infinite raffigurazioni molti hanno affermato che l'identificazione con il caprone e il diavolo rappresenta la demonizzazione di un rito agrario più antico legato a qualche divinità celtica cornuta come cernunos o anche alla sopravvivenza di culti bacchici nei quali figurava anche un caprone simbolo di fertilità più che culti bacchici non è un errore quello che c'è scritto nel libro ma noi dobbiamo andare a vedere ancora più indietro i culti di dioniso le festi con le mena di danzanti li incontriamo o iniziamo a comprendere il perché è le mena di danzanti perché se noi a bacchico associamo un'immagine orgiastica nel senso moderno e negativo le mena di spesso erano addirittura vergine non succedeva quello che ci immaginiamo noi c'era il frastuono c'era il caso c'era la natura che rompeva siamo in primavera la piantina che rompe la terra per emergere in questo senso e potenza erotica è la forza vitale della natura che prorrompe comunque anche se la saga delle streghe di tus l'osa è un'invenzione letteraria di assoluce è assolutamente certo è assolutamente certo che l'immagine del diabolico capro servì a identificare dal 400 in avanti 400 in avanti 1492 scoperta dell'america secondo i manuali più noiosi fine del medioevo quindi 400 alla fine del medioevo questo è importante la caccia alle streghe epoca moderna non è medioevo identificare dal 400 in avanti sia gli eretici valdesi sia gli adepti di una nuova forma di eresia coincidente con la stregoneria quindi la stregoneria diventa una forma di eresia ma tant'è che la stregoneria viene in alcuni testi e le riunioni del sabba vengono identificate da alcuni autori come come gli incontri di una società segreta ecco dove sta anche per me parte dell'interesse verso questo argomento è un dato di fatto che in almeno due codici miniati risalenti agli inizi del 400 si vede raffigurato il bacio al posteriore di un caprone offerto dai diabolici valdesi nel corso di un loro rito è sul bacio del caprone io vi auguro una buona settimana che sia ricca di gioia e di vigore perché con la gioia e il vigore si può lavorare meglio e sentire meno la fatica se questo video il canale ti piace ti invito iscriverti a cliccare sulla campanella per ricevere degli aggiornamenti mentre se sei un appassionato di questi argomenti e vuoi approfondirli ti invito a sostenere il progetto lexi con simbolorum abbonandoti potrai ricevere delle dispense settimanali partecipare a delle serate in esclusiva per i sostenitori e molti altri vantaggi in ultimo ma non per ultimo ti ricordo il 23 aprile ora l'orazione sulla dignità dell'uomo di pico della miranda un evento unico per partecipare conoscere i costi e le modalità di iscrizione ti invito a scrivere una mail a lexi con simboloro chiocciola gmail.com per oggi è tutto grazie per la compagnia ci vediamo lunedì prossimo stesso posto stessa ora ciao